Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo saggio pubblicato da pochissimo da Carocci che si intitola Anima e corpo, donne e fedi nel mondo mediterraneo secoli undicesimo sedicesimo di Isabella Gagliardi che noi abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questa Anima e corpo. Prego Isabella a te. Perfetto grazie grazie Maurizio grazie a tutti gli ascoltatori a chi frisce il canale per l'interesse nei confronti appunto del lavoro che ho pubblicato con Carocci. Che dire, per presentarlo posso dirvi che si tratta di una ricerca che è durata tanto tempo perché la ricerca non è nata per il libro ma è il libro che alla fine ha preso corpo appunto per citare una parte del libro anche sulla base di altre ricerche precedenti poi ovviamente ho lavorato per quello perché l'idea era quella di cercare di ricostruire la vita di donne che fossero vissute in epoca questa lunga epoca appunto medievale nel contesto mediterraneo che appartenessero alle comunità di maggioranza quindi cristiane ma anche alle comunità in alcune parti di minoranza in altre di maggioranza cioè comunità islamiche a comunità sempre di minoranza quelle quelle ebraiche appunto cercare un po' di capire di 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 come effettivamente ci si potesse muovere no all'interno del mondo della società eh di questo periodo essendo donna appartenente a eh non per forza gli strati alti eh della società non ci le protagoniste del libro non sono tanto eh donne come dire famose che sono passate alla storia donne eccellenti eh come si direbbe oggi con questa parola che ormai di cui veramente io francamente non ce l'è essere anche un po' satura eccellenza eccellente sono donne normali più o meno cioè donne che vivono una eh sulla linea mediana e che hanno segnato la storia attraverso appunto eh le loro le loro mani le opere delle loro mani le opere del loro ingegno ehm e quindi il tentativo è è stato quello di recuperarle in qualche modo recuperare la loro dimensione quotidiana partiamo da da una considerazione quella che ti ha stupito di più ti ha sorpreso di più chi è? Allora ce ne sono ce ne sono tante ma eh diciamo una di quelle a cui sì che mi ha stupito di più è stata una donna eh una una giudea una donna che apparteneva al mondo eh al mondo della della Francia del Sud ehm e la società della della Francia del Sud di cui non conosco nemmeno il nome eh in memoria di lei ricorre in un in uno dei documenti della Geniza del Cairo ehm una persona che ha avuto una vita estremamente avventurosa ehm di lei rimane un suo testamento in cui racconta eh un atto che è mutilo però della parte iniziale e della parte finale per cui è molto complicato anche eh ricostruire proprio il il nome del della persona una storia veramente complessa che l'ha portata a fuggire lei è una cristiana che si converte per amore per amore di un giudeo diventa giudea che poi scappa eh eh va in una in una eh in un luogo appunto della dell'attuale Spagna poi da lì viene incarcerata ha delle situazioni molto difficili da cui la comunità ebraica la salva perde anche il marito ha due figli finché non riesce ad arrivare in Egitto a Fustat oggi è nel nella periferia del Cairo e e lì eh costruisce una una nuova vita con i figli e perché viene accolta dalla comunità ebraica eh di Fustat lei che è una convertita fa parte poi integrante di questa eh di questa comunità una storia bellissima ho trovato quasi commovente devo dire la verità insomma eh mi ha mi ha mi ha molto colpito ma sono tante insomma eh vi sono anche storie di donne un po' più molto più famose per esempio ehm compare eh Christine de Pisan che tutti straconosciamo ovviamente anche se ne compare tra le copiste insomma perché eh di lei eh ho voluto ricordare l'ho voluta ricordare insomma ha voluto ricordare la sua opera quando parlavo delle 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 miniaturiste appunto delle copiste insomma delle donne eh che eh hanno eh fatto materialmente i libri non che li hanno eh che li hanno scritti quindi l'ho voluta ricordare oppure eh alcune poetesse andaluse molto particolari appartenente appartenenti alla società islamica Vallada una di loro ma insomma ce ne sono anche eh molte altre mh loro magari donne che eh alla loro epoca eh erano più famose comunque appartenenti a un ceto sociale eh più alto ehm lì eh come dire ho cercato di ricostruire un po' il i gruppi che si muovevano attorno a queste donne e si trovano trovato gruppi appunto eh in cui eh si insegnava ad altre donne a volte erano donne di di condizione molto molto bassa addirittura erano schiave perché era invece si poteva fare di istruire le schiave nelle arti del canto e del della danza e della poesia perché il canto è anche è anche poesia anche quelle sono belle storie insomma che interessanti che mi sono rimaste a cui sono rimasta più affezionata diciamo così. Ma quindi si esce un po' dai cliché a cui siamo abituati del ruolo della donna oppure ci si ritrova in pieno in queste storie? Credo si esca dal cliché nel senso che se è vero che questa è la prima parte del libro ho cercato di come dire eh fotografare l'ingresso in società delle donne che era un ingresso in società scandito da loro diventare grandi quindi donne cioè avere eh sostanzialmente il ciclo poter essere in grado di di procreare degli esseri umani essere destinate quindi a al matrimonio ehm proprio eh diciamo attorno a questa eh fisicità della donna rosava tutto un mondo eh di donne esperte che ho voluto recuperare insomma storie di ostetiche storie di di donne che sapevano di medicina che curavano appunto altre donne e non solo ehm la prima parte del libro infatti eh è dedicata al eh ecco perché si chiama poi anima e corpo no cioè eh il libro ha preso questo titolo perché è dedicato proprio a ehm parlare della corporeità eh di come viene percepita la corporeità della donna in queste tre società delle donne in queste tre società nel periodo cercando anche di dettagliare laddove fossero possibili le differenze nel periodo appunto che che sostenevi prima è e attorno alla corporeità però ruotano tutta una serie di elementi anche di tecnicalità di sapienza molto importanti connessi proprio al eh alle conoscenze di tipo medico farmacologico devo dire grazie a alcune istituzioni francesi in particolare alla Fondation Mission des Sciences de l'Homme ma eh anche eh al laboratoire ehm di più sull'emonoteisma che mi ha voluto come in cui ho il piacere e l'olore di stare come membre assosie perché ehm una parte di questa ricerca ho potuto farla in Francia sono stata ehm appunto ho potuto quindi anche visionare delle fonti molto molto interessanti molto belle e avere anche scambi con colleghi che si occupano di questi temi eh appunto in Francia quindi la parte relativa appunto proprio ai saperi legati alla alla medicina e alla eh alla farmacologia e da lì poi si fa a spasso analizzare quindi proprio il ruolo di cosa fa una una moglie no e anche una una madre per scoprire in queste case queste case non sono soltanto luoghi di lavoro ma sono anche una sorta di agenzia di di formazione no dove si imparano a fare del a fare delle cose ehm eh e eh dalla casa che è poi il luogo che con tutte le eh differenze però insomma tutte le e tre le società ehm le culture eh come dire vedono come luogo per eccellenza no della donna ehm c'è il suo speculare contrario che è che è il bordello no e quindi ancora questo corpo questo corpo non più custodito custodito no della donna non più dedicato a un uomo soltanto e a fare dei figli ma che diventa un corpo tra virgolette pubblico no un corpo che viene venduto e che disegna l'altro polo e anche lì in tutte e tre le culture no queste prostitute che sono un male necessario di cui non si può non si può fare a meno e anche lì ci sono delle storie che a volte che si può che si possono ricostruire interessanti e anche come dire eh desu desuete rispetto a a certe forme di cliché no ehm prostitute che per esempio eh si danno attività infamanti questa non è una storia che ho trovato io ma cito dalla bibliografia opportuna che eh vengono poi come dire ehm perseguite per legge perché eh fanno eh poesie infamanti contro l'amante eh che le ha tradire perché loro si erano affezionate no magari a avevano creduto per un momento avevano avuto il sogno di poter avere una vita una vita normale quindi anche eh nella norma no dell'epoca in questo senso ho usato la parola normale eh quindi ancora il corpo come ha gestito la la sessualità no della donna come ha gestita che determina ehm questo volevo dire determina la percezione sociale eh il suo essere brava o cattiva il suo essere una donna come dire di cui eh ci si può fidare si può parlare bene una moglie e una madre o addirittura no il suo il suo contrario una donna tra virgolette perduta eh un corpo che ehm è animato da da uno spirito e da un'intelligenza che qualche volta riesce a esprimersi infatti poi da lì passo analizzare i lavori ehm anche se vuoi più intellettuali no delle donne queste case che in cui si impara a volte si impara a scrivere si impara a verseggiare si imparano le abilità mediche perché magari si è figlia di medico moglie di medico sorella di medico o come nel caso di qualche poetessa si è figlia di un intellettuale di un grande poeta ehm quindi donne al lavoro donne che scrivono i libri donne che invece li fanno i libri perché li copiano donne che li miniano tra le copiste appunto anche lì un livello appunto interculturale e ehm e proprio eh molte di queste donne anche se teoricamente non avrebbero dovuto farlo ma poi lo facevano nei fatti ehm come dire eh molto spesso copiavano il o eh in ambiente cristiano illustravano e miniavano eh testi sacri sono sono andata poi a parlare delle delle donne che invece dei libri sacri hanno fatto la propria ragione di vita no? Quindi eh entriamo nei monasteri eh cristiani le donne di Dio no? Come come si vive in qualche modo da monaca quindi il chiostro è come eh momento di eh come eh diciamo così come luogo e e tempo più che momento di una scelta particolare che cosa poteva significare e per quanto possibile anche ho cercato di recuperare storie di donne legate al mondo della confessione della religione appunto eh nel mondo ebraico e appunto nel nel mondo islamico in particolare le storie bellissime delle donne che trasmettono la eh i detti del profeta eh donne che quindi eh in qualche modo stanno al nel cuore no del del nel cuore del del mondo eh della confessione della fede no? E della religione ma che non come dire hanno sempre una posizione eh che dipende da quella invece di 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 chi amministra veramente il culto che non sono donne sono sono sempre uomini che comunque rappresentano come dire la faccia bella la faccia buona no? Della eh e che hanno eh un loro speculare contrario così come la moglie no? Al suo eh speculare contrario nella prostituta queste donne hanno queste donne di Dio hanno eh il loro speculare contrario nelle donne nelle donne che invece sono avvicinate ai principi maligni ehm qui c'è un caso il caso cristiano è è della società cristiana è eh come dire ha una sua dimensione eh del tutto unica non imparagonabile alle altre eh mi riferisco alla alle streghe fondamentalmente ma eh diciamo quello che interessa è che anche in altre società eh si hanno momenti in cui eh si riconoscono in certe donne elementi di malignità hanno elementi maligni legati a una alla pratica di magie che sono eh considerate cose appunto nefaste niente di paragonabile al fenomeno cioè niente di analogo eh al al fenomeno eh della stregoneria però insomma ci sono casi eh interessanti e più che altro a me quello che eh interessava era mh come dire ricostruire questi i momenti di fluidità di passaggio come era facile no anche in certi casi passare dall'essere una donna di Dio a a diventare una donna invece maligno una donna del in qualche in qualche modo del male questo grosso modo è un po' l'andamento del 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 lavoro è un libro che bisogna andare a comprarsi subito eh perché è una prospettiva è una visione di un periodo che noi siamo abituati a immaginare come monolitico eh lontano da dalle donne soprattutto e che invece secondo me tu dimostri non essere tale quindi io ricordo il titolo che è anima e corpo donne e fedi nel mondo mediterraneo secoli undicesimo sedicesimo appena pubblicato da Carocci a scriverlo è stata Isabella Gagliardi che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite che io ringrazio tantissimo e a tutti voi continuate a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato finora grazie ancora Isa grazie grazie a te 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 gra